E qui abbiamo uno, l'altro non riesco a non ridere Ciao a tutti ragazzi, si è parlato fin troppo forse di Sanremo, me ne rendo conto Giuro che questo è l'ultimo video Non so voi ma personalmente sono stato invaso E Facebook, e Instagram, gente che mi suona alla porta Dico chi è? Amazon? No Secondo lei doveva vincere ultimo? E basta mo! Ma non è di polemiche che vi parlerò oggi ma dalla parte più bella del web I meme! Ecco e partiamo subito con un meme di somiglianza Ecco dove li avevo già visti, Mammut e Bizio Giustamente Gulame e Reina, due giocatori del Napoli perché non li conoscesse Sono praticamente identici No beh, oddio identici no però Ci siamo molto vicini, per essere sincero Andiamo avanti con il gioco delle somiglianze E abbiamo una somiglianza di se stessa Arisa prima con un premio nel 2009 e nel 2019 senza nulla E una spada laser, che cos'è? Ah è l'asta del microfono Sembra una spada laser quella in mezzo Vabbè, lasciamo stare E invece abbiamo anche un'altra persona che probabilmente si è goduta Sanremo Direttamente davanti al vetro Ed ecco qua, anche quest'anno sono davanti all'Ariston Giustamente una lavatrice, ci sta, ci sta, ci sta Un'altra cosa che è emersa da Sanremo E che Baglioni non ce la fa proprio a non cantare E allora vediamo un ospite di Sanremo con Baglioni che si avvicina 4-4 per due età Ed ecco giustamente per rimanere in tema, quando sta cantando sotto la doccia e spunta Baglioni per due età Perché non riesce proprio a stare fermo E ancora arriviamo a un altro bellissimo meme classico con Batman di Salto C'è Robin Ma stavolta c'è Baglioni che dice Quella sua maglietta fine Boom, Claudia basta E che cavolo, ci ha rotto Ed ecco un'altra somiglianza Quando pensavi di andare ad una festa in maschera Arrivi a Sanremo Giustamente Baglioni uguale a quello della famiglia Adams Io ammotto Ed un'altra somiglianza con Baglioni là Il capo di Art Attack Non so quanti di voi se lo ricorderanno Ma forse questa un po' meno Però effettivamente siamo lì anche qua Siamo lì Ecco, ecco un'altra che sempre riferito a Baglioni Che non riesce proprio a stare fermo Quando sei Baglioni e sono sette minuti che non canti Vedete le vene del ragazzo Altra meme classica Che non riesce a stare fermo La rappresentazione di Baglioni Proprio durante Dietro le quinte Durante le riprese dell'Ariston Il prossimo invece ci esorta a dare sempre ascolto Alle nostre mamme Non come ha fatto Visio Infatti vediamo Guarda che pioverà Prendi l'ombrello Come disse mia mamma Io Ma no mamma C'è solo un bellissimo sole fuori Bello, bello, bello Sempre io Dopo qualche ora fa Distrutto, lavato completamente E succede nella vita reale Quindi mi raccomando Prendete l'ombrello Se lo dice la mamma Questo è un meme che ci ha regalato il bravissimo Visio È stato fantastico in questi casi Quando dopo 5 serate che rompi con la storia dei 0,51 centesimi Per votare il vincitore di Sanremo E ti accorgi invece che vince il terzo Grazie al voto della ragione di qualità dei giornalisti E beh è stato Ha avuto molto senso come cosa Effettivamente Ci ha regalato questo meme Giustamente andava sfruttato in qualche modo Siamo ancora su Baglioni Che vuole cantare per forza Per presentare Sanremo Viene accantonato Per far posto al cantare Allora Questo è per tutti coloro Che vanno al cinema E si lamentano Se hanno una persona davanti Sappiate che c'è Chi sta peggio di voi Qua una signora Che non vede che cosa davanti Per via del cappello di Bastianich Uno spende migliaia di soldi E poi ci trova Bastianich davanti Grandissimo Attenzione perché Non esiste solo Ulisse Ma anche Baglioni Infatti vediamo nel Cavallo di Troia Il concerto di Baglioni E la Rai che lo porta a tutti noi Facciandolo per Festival di Sanremo Ma in realtà era di fatto Un concerto di Baglioni Non so se avete notato E siccome probabilmente i duetti non bastavano I due cantanti hanno addirittura Deciso di dialogare tra loro Tramite le loro canzoni Come va, come va, come va Mi sento bene Perfetto A posto Questo invece è sull'abbigliamento Discutibile di Bisio Infatti vediamo Assumo Agileo di One Nost Effettivamente Scusate la mia pronuncia Effettivamente La giacca di Bisio Sembra il divano di mia nonna Ma quello è il divano di mia nonna E per ricordarci anche amici dell'anno scorso E le polemiche che erano sorte Dopo l'autotune del biondo Vediamo qui Ermal Meta Dietro le quinte Che ascolta l'autotune di biondo Carretto passava E quell'uomo gridava Gelati L'abbigliamento è molto da gelataio Molto Ma veramente tanto Cioè veramente La gente mi avrebbe preso in giro Invece lui no Era l'Ariston Quindi va bene così Invece per tutti gli appassionati Degli anime e dei manga Abbiamo Gammon Che non è quello di Lupin Ma lo stesso Riesce a ringraziare il suo stilista Naruto Uzumaki Vestito come Remita Ed in maniera identica Al rapper E andiamo ancora col gioco delle somiglianze Stavolta è Sempre lui Scusatemi Sempre lui È Mahmoud Con Ghulam Quando perdi lo scudetto Ma cinque ore dopo Vinci Sanremo Fantastica E ancora abbiamo Mahmoud e Ghulam Dopo la rottura del crociato Si riscatta E vince Sanremo Respecto Questo invece è un messaggio Che voglio rivolgere A tutti gli universitari Non vi preoccupate Non mollate Perché non sarete mai messi Come Fatti bravo Che è fuori corso Di qualche anno Rispetto invece A briga Che è giusto Con gli studi Vediamo qua Una differenza Veramente abissale Fantastica E anche quest'anno Si è sentita La mancanza Del nostro maestro Guardate Intanto Cosa stava facendo Vessicchio Sorsigge del latte Con i biscotti Fantastica Bellissima Anche questa immagine Hashtag Intanto Vessicchio Qui abbiamo invece Delle somiglianze Parentali Qui bisogna fare Il DNA Secondo me Perché Johnny Depp Che Imperati dei Caraibi È identica A Patti Bravo Per gli amanti Invece Degli anime sportivi Abbiamo un grandissimo Ritorno a Sanremo Guardate C'è zia Ornella Vanoni Con Loredana Bertè Sono veramente Trent'anni dopo Identiche A Mila E Kaori Mi sembra che si chiamasse La ragazza blu Questa invece Mi tocca nel profondo Perché devo essere sincero Sembra veramente Il riassunto Della mia vita Infatti vediamo Mahmood Sorridente E invece Un ultimo Triste e sconsolato Gli altri E me Sì È brutta come cosa Ma è la verità Poteva mancare La meme di Messi Ma assolutamente no Vediamo Televoto Sanremo Ultimo 47 Il volo 39 Mahmood 14 Vincitore Mahmood Guardando solo La giuria popolare C'è qualcosa Che non va Ma va bene così Questa è una delle cose Invece che ha fatto Più scalpore Probabilmente Nella prima serata Un altro meme Popolarissimo Del ragazzo Di colore Che guarda le gambe Ma sopra C'è Loredana Bertè E rimane Ci rimane un attimino male Un po' come tutti noi Ecco Questo invece È veramente Un amante del festival Che ha voluto Tributare così Quando a un certo punto Della serata Cambiano canale Su Sanremo Sì Veramente Si vede proprio La passione Dentro questa persona Che ha creato Questo meme Tra l'altro Cos Che Come fa Ad avere un orecchio Cioè io al massimo Faccio così Come Come Mi fa anche un po' impressione Devo essere sincero Schifo E qui abbiamo Qui ne abbiamo uno Scusate non riesco a non ridere Cristina Strapazzaci di coccole Fantastico Sì È stata La regina Della serata Quella volta lì Grazie Grazie Cristina Ad averci regalato Questi bei momenti Di televisione Altra somiglianza Impressionante Qua abbiamo Patti Bravo Identica Alla ragazza Protagonista Di Avatar Che lei Molto somigliante Questo invece È un meme Molto criptico Attenzione Eccolo qua Codice di televoto Di Patti Bravo Abbiamo dei Geroglifici Immagino Che lei Fosse bella Esattamente Come Cleopatra Giusto Per mettere Dei geroglifici Giusto Assolutamente Nessuno pensava Che fosse una mummia Però Invece abbiamo Un concorrente D'eccezione Che nessuno Ha visto Ma fidatevi Che c'era Eccolo qua Matteo Salvini Canta Nessuno Mi può giudicare Poi c'è invece Chi preferisce Altro al festival Di Sanremo Tra Sanremo E San Valentino Io preferisco Il San Giovese Cheat Fantastica Bellissima Ottima Ne abbiamo un altro Invece a tema Calcistico Che fa riferimento Allo strapotere Nel calcio italiano Della grandissima Vecchia signora Infatti vediamo Tanto pure quest'anno O rivince a Juve Pratica La Juve vince talmente tanto Che vince anche Sanremo Allora Questo non è Apprettamente un meme Però L'ho voluto mettere Perché volevo farvi capire La situazione Di frustrazione Che deve provare Ultimo In questi momenti Guardate È secondo È secondo Anche Su iTunes Quindi Niente Neanche lì Ha vinto Poverino Mi dispiace Perché Probabilmente Non deve essere facile E qui è sempre La zia Ornella Nazionale Che ricorda Con un meme Creato da lei Praticamente Cosa Successa davvero Che non diventi Un'abitudine Sono venuta Gratis Doveva farcelo Proprio pesare E concludiamo Con l'ultimo Ma non ultimo Fantastico Beppe Vesicchio Che si improvvisa Pubblicità Dello Shweb Con Ehi Ti va di dirigere L'orchestra Solo io E te Bene ragazzi Questi erano per me I migliori meme Di Sanremo 2019 Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Mi raccomando Commentate Magari ne avete trovato un altro O ve ne siete inventato un altro Voi Voi ditemelo Mi raccomando E noi ci vediamo sabato Con il prossimo video Ciao